Garantire giustizia ed equità sociale, puntare sulla partecipazione attraverso un coinvolgimento dei giovani sono solo alcuni dei punti del progetto Sapri al Centro, movimento politico creato in vista delle prossime elezioni amministrative nella cittadina della Spigolatrice e che si oppone all'amministrazione uscente con un possibile appoggio alla lista di Insieme per Sapri, attuale gruppo di minoranza in consiglio comunale. Sì, sto prendendo parte al gruppo di lavoro Sapri al Centro che per me costituisce una prima esperienza nell'ambito dell'ottica di amministrazione locale ed è un'esperienza piacevole. Parlo di gruppo di lavoro perché innanzitutto faccio parte di una compagine forte e ben motivata di lavoro perché è stato preso seriamente l'obiettivo che è quello di unire quante più forze mentali e fisiche nella realizzazione di un progetto comune. Qual è il progetto comune? Non può che essere in questo preciso momento storico la rivalutazione del nostro splendido paese che ahimè abbiamo avuto modo di constatare sta diciamo così perdendo colpi quindi il nostro intento è questo unirci solidamente per la realizzazione e la rinascita di Sapri così come la vogliono tutti, giovani meno giovani. Nello quotidiano, nell'ordinario vorremmo innanzitutto recuperare in vista dell'imminente stagione estiva la situazione del porto che deve essere per noi fonte di piacere e di rendita pure economica attraverso il turismo che fino ad ora non è stato incrementato e se un paese come Sapri che è un paese di mare non fa perno innanzitutto su una struttura portuale intendendo per struttura portuale tutto ciò che può offrire un porto non solo commerciale ma anche turistico ai cittadini ahimè allora saremmo costretti ad affrontare altri argomenti quindi voglio dire innanzitutto siamo all'eliminenza della stagione estiva quindi il porto, le spiagge, l'accoglienza dei turisti ma in atti concreti, con atti concreti sono diciamo così all'ordine del giorno. Seguirà una serie di altri obiettivi di semplice diciamo così e pronta realizzazione.